Mobilitati contro l'Imu Agricola sono gli aderenti di altra agricoltura in presidio a Metaponto. E intanto il 23 marzo gli agricoltori saranno in piazza con i trattori per protestare contro l'Imu Agricola e crisi del comparto. Michele Giordano. È l'unità e una proposta condivisa che dobbiamo far vivere fuori. Assemblea degli agricoltori della fascia ionica nel presidio allestito sotto una serra lungo la Basentana a Metaponto nei pressi dell'incrocio con la statale ionica. L'iniziativa è di altra agricoltura e del comitato per la difesa delle terre ioniche. Al confronto sui temi più attuali del comparto agricolo hanno partecipato anche delegazioni di operatori turistici comitati per la difesa del territorio, precari e disoccupati. Fra otto giorni trattori in colonna per protestare contro la crisi. Si è discusso infatti della manifestazione organizzata per il 23 marzo, quando gli agricoltori scenderanno in piazza per rilanciare tre proposte. No all'Imu sui terreni agricoli, stop all'aumento dei canoni del consorzio di bonifica, misure straordinarie per salvare le aziende del settore. Inizia una nuova fase della mobilitazione degli agricoltori di questo territorio che punta a una forte alleanza con tutta una serie di altre categorie. L'Imu agricolo deve essere assolutamente ritirata, è un problema per tutti. Nel 23 ci sarà questa iniziativa e la cosa più importante è essere tutti uniti, stare tutti insieme e avere un unico obiettivo che è quello di salvare le nostre aziende.